Sabato parte il Carnevale di Domodosso, la contante novità in primis, lo storico palco del 1929 ristrutturato, investimento di 15.000 euro, la metà dei quali finanziati da Fondazione Comunitaria VCO. La città, grazie ai kit distribuiti dal Comitato Polente Sciriui e Commercianti, si sta già tingendo di quel giallo che vuole diventare il simbolo di questa festa e che colorerà anche il municipio. Abbiamo deciso di esporre sul palazzo di città due drappi gialli, nella speranza di coinvolgere il più possibile la città in questi dieci giorni di festa e augurandoci che, piano piano, partendo da quest'anno, tutti i nostri concittadini decidano di partecipare, di rilassarsi, di divertirsi insieme al Comitato Carnevale e di esporre magari anche loro qualcosa di giallo, colorando così tutta la città. L'apertura del Carnevale, dicevamo, sabato alle 12 in Piazza Chiossi con la presentazione dei profumi del Togne della CIA e con l'inaugurazione della mostra del nuovo libro dedicato alle maschere simbolo del Carnevale Domese. Il volume sarà donato a tutti i piccoli delle scuole elementari in contemporanea proiezione del video realizzato dagli allievi del liceo Rosmini. Il libro, oltre al video, rimarrà nei tempi per arricchire la cultura della città e poi per far conoscere la storia corretta ai bambini, visto che la storia veniva sempre narrata al Togne della CIA e ogni anno veniva un pochettino modificata, abbiamo deciso di fare un fumetto narrando la storia originale. Sabato alle 16.30 la partenza della sfilata da Piazza Matteotti, alle 17 in Piazza Mercato la presentazione del ristrutturato palco e la consegna delle chiavi della città. Domenica a giro dei Carnevali di Domodossola, Malesco e Villa Dossola, con quest'ultimo c'è una rinnovata collaborazione. Siamo a domenica 3 marzo, Polente e Sciriu in piazza e dalle 14.30 una sfilata da record con oltre 10 carri e una trentina di gruppi partecipanti. Verranno distribuiti 2.000 palloncini gialli, alle 16 il matrimonio del Togne della CIA, per l'occasione pacchetti turistici in collaborazione con BLS e Ferrovia Vigezzina Centovalli, rivolti ai residenti nella vicina Svizzera.